Sarà che solitamente quando c'è una pausa nazionale si parla sempre di mercato? Sarà perché ovviamente stiamo parlando di un'operazione che da qui a breve sarà necessario definire? Sarà semplicemente perché Rabiot in questo momento fa tendenza, fa notizia da quello che è stato il suo tocco di mano, tra virgolette, se vogliamo dire tra virgolette o concreto, come volete, tanto ormai, un po' tutto il contrario di tutto, nell'altra sera contro l'Inter, oggi si parla di un eventuale rinnovo, direi del Rabiot con la Juventus, giocatore che andrà in scadenza ovviamente al 30 giugno 2023, giocatore che in questa stagione si sta veramente dimostrando un top player, un top player per la Juventus è effettivamente così, Rabiot è uno dei migliori giocatori stagionali della Juve per rendimento e per presenze, perché in una stagione così travagliata per la Juventus, così difficile per quelli che sono i continui problemi a livello fisico per tanti calciatori, Rabiot è stato, non dico inossidabile, ma quasi, si è fermato magari in alcune circostanze, in alcuni momenti, alcuni fastidi, ma alla fine della fiera Rabiot è sempre stato presente, Coriaceo, giocatore che diversamente da quanto ci si poteva aspettare è arrivato a una media goal anche abbastanza importante per un centrocampista, giocatore che dà sicuramente quantità all'interno del rettangolo di gioco, ma soprattutto qualità, soprattutto qualità, anche negli ultimi metri, non solo in zona goal, pure in zona di rifinitura, gli ultimi due assist della Juventus, quindi il gol di Chiesa e il gol di Kostic, nascono proprio da Rabiot, che va in verticale, va in orizzontale, recupera palla, giocatore importante per Massimiliano Allegri, che ha saputo forse trarne il meglio in questa stagione e l'anno scorso invece era riuscito a trarne il peggio per quanto mi riguarda, perché la migliore stagione di Rabiot è sotto questo punto di vista merito di Allegri, e secondo me anche la peggior stagione di Rabiot è de merito di Allegri all'interno di due annate in cui veramente abbiamo due facce diversissime della stessa medaglia, cioè il calciatore, giocatore che si è preso anche se vogliamo la posizione di Pogba all'interno del centrocampo francese e quindi anche di quello juventino, in più di un'occasione vi ho detto come facciamo l'anno prossimo senza Rabiot, si spera che quel posto lo possa prendere Pogba, attenzione che ora invece si parla di un Rabiot che potrebbe rinnovare. Ovviamente i casi sono qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League, e questo credo che sia un fatto abbastanza importante e determinante per quello che sarà il futuro del calciatore, la Juve che in questo momento è forse anche abbastanza vicino alla qualificazione nonostante i 15 punti di penalizzazione, poi di questo parleremo anche un po' più avanti, e ovviamente è la volontà da entrambe le parti di andare a prolungare un contratto in una squadra nella quale Rabiot ha già giocato per quattro anni con tre allenatori differenti e, dicevamo, alti e bassi. Nella prima stagione di Sarri non ero pienamente convinto dal calciatore che aveva fatto una stagione tra altri bassi, la stagione di Pirlo mi era piaciuto, era stato probabilmente il miglior centrocampista della Rosa, l'anno scorso schierato come esterno nel 4-4-2 storto invece aveva convinto veramente poco, e quest'anno è uno dei trascinatori di questa squadra, al pari di Danilo, al pari di Kostic, al pari di Di Maria, giocatori veramente che stanno facendo la differenza. Attenzione perché Rabiot non guadagna poco, Rabiot è arrivato a parametro zero alla Juventus, è stato un calciatore che per anni abbiamo definito strapagato perché guadagnava tantissimi soldi e in campo non rendeva, come un calciatore che meritava quei soldi. Oggi pensare che la Juventus possa andare a rinnovare Rabiot a una cifra ancora più elevata perché separa i 10 milioni bonus compresi mi lascia perplesso, mi lascia perplesso per più motivi, intanto perché quest'estate l'avevamo venduto, quest'estate la Juventus aveva ceduto Rabiot, non si è trovata l'accordo poi tra la mamma agente Veronique e il Manchester United, si mormorava in realtà che Rabiot potesse aver chiesto una cifra fuori mercato, questa cosa poi è stata smentita col passare del tempo, semplicemente poi per quella cifra lì, che bene o male doveva essere la stessa che percepisce attualmente la Juventus, lo United ha preferito aggiungere qualcosa e andare a prendere un calciatore come Casemiro. Ma la Juventus, dal punto di vista tecnico, aveva ceduto Rabiot, c'era la volontà di andare avanti. Io mi metto in prima linea, ero uno di quelli che era entusiasta dell'accessione di un calciatore in scadenza, che non aveva dimostrato chissà che cosa in tre anni a Torino e che sicuramente sarebbe stato monetizzato e soprattutto un ingaggio pesante da alleggerire. Io vi dico la verità, tuttora non so se rinnoverò il contratto di Adria Rabiot. Non perché non se lo meriti, questa stagione credo che sia stato uno dei calciatori più meritevoli di un ingaggio così pesante e davvero pensare l'anno prossimo a un'assenza così tosta nel centrocampo della Juve che è arrivato ad avere una sorta di equilibrio con Locatelli, Rabiot e Fagioli. Questi sono i tre titolari. Però penso, Rabiot, la Juve, il progetto. Questo credo che sia un discorso da andare a fare esattamente pari ai giocatori quanto più per l'allenatore. Traduco. In questo momento in cui la Juventus avrebbe conquistato il secondo posto in classifica senza la penalizzazione. Una Juventus che va a giocarsi un quarto di finale di UEFA Europa League. Una Juventus che va a giocarsi una semifinale di Coppa Italia. Una Juventus che dopo il Napoli in Italia sembra forse essere oggi la squadra più convincente nonostante ovviamente purtroppo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions e ai quarti di Champions dove invece ci sono altre due squadre che sono Inter e Milan ma secondo me in questo momento la Juve è davanti all'Inter e al Milan. Poi sono cose che possano cambiare, sono equilibri che da un momento all'altro possano cambiare. Ma qual è? Qual è la volontà della Juve? Qual è il progetto della Juve? Si vuole andare a fare una squadra costruita su giocatori che possono essere rivendibili? Qual è il monte in gaggi della Juve? Perché l'anno scorso io ricordo, si parlava bene o male delle stesse cose con Paolo Di Bala e si diceva una cifra così alta a un giocatore come Di Bala la si andrà a dare la Juventus a un monte in gaggio interno si è data un limite quello stesso limite che quest'estate ha fatto salutare anche Matthijsdelit rimpiazzato da Bremer secondo me ottimamente io sto leggendo e sentendo delle critiche a Bremer che secondo me in questo momento qui sono ingiustificate sono veramente ingiustificate qual è? Qual è il piano? Qual è la volontà? E soprattutto Rabiot ora ha raggiunto davvero una maturità? Oppure stiamo parlando di un momento di forma? Perché attenzione, io non metto in dubbio che Rabiot ebbe delle qualità stamattina parlavano di Buffon Buffon ci ha giocato insieme a Parigi quando è arrivato la Juve Rabiot ha detto che è un misto tra la fisicità di Pogba la cavalcata scusate, la cavalcata di Pogba la fisicità di Vidal i recupero palloni di Vidal e il tiro di Marchisio e se vogliamo qualcosina anche di Pir cioè sembrava un cyborg da come ce l'aveva descritto Buffon sembrava il calciatore, il centrocampista più forte della storia del calcio secondo me Rabiot non è stato interpretato, capito al meglio però sia Sarri che Pirlo che Allegri ce l'hanno sempre detto anche negli anni un po' più complicati questo è uno dei più forti che abbiamo in rosa questo è uno dei più forti che abbiamo in rosa io non sono mai stato un fan di Rabiot lo sapete benissimo questa stagione mi ha preso questa stagione mi ha veramente conquistato questa stagione mi sta facendo dire gli altri tre anni non era pronto non lo avevano capito era fuori ruolo non l'hanno sfruttato al meglio non era pronto lui atleticamente mentalmente qual è la motivazione ma soprattutto mi fanno dire ora tre anni alti e bassi un anno veramente alto con quello di Pirlo che secondo me è stato buono ma qual è il vero Rabiot? nel momento in cui vado a rinnovare un calciatore così importante dal punto di vista economico è così importante per la centralità del progetto non posso fare altro che interrogarmi chiedermi qual è il vero Rabiot? in quale stagione vado a collocare il vero Rabiot? ne abbiamo visti tanti tantissimi di calciatori che una stagione veramente buona te la fanno poi analizzi il complesso e dici sì una montagna russa io in questo momento forse perché sono influenzato da quello che di buono ci sta facendo vedere Rabiot vi dico secondo me il vero Rabiot è questo secondo me il vero Rabiot è questo secondo me oggi Rabiot ha raggiunto una maturità calcistica tale per cui questo standard di prestazioni andrà a ripetere e verrà prolungato nel tempo questa è la risposta che vi do oggi non è la risposta che avrei dato sei mesi fa forse non è la risposta che vi darò tra sei mesi e rinnovo di Rabiot significa che verrà confermato questo progetto tecnico che si andrà avanti come se mi hanno lei secondo me ci sono tante domande da farsi legate al rinnovo di Rabiot è ovvio che se l'idea invece è non rinnovo Rabiot poi vado sul mercato e prendo un nome alla Milinkovic Savic che a livello di cartellino costa tanto a livello di ingaggio sia lì forse vi dico facendo due conti conviene allora rinnovare Rabiot conviene rinnovare Rabiot che già conosce l'ambiente si è già ambientato in questi anni ha già capito il peso della Juventus e si trova bene all'interno della Rosa è ben voluto da tutti i compagni è un punto fisso per l'allenatore allora andiamo avanti con lui sicuramente ci sono tante domande da farsi non è così scontato perché ripeto oggi vi direi assolutamente se rinnovate Rabiot ho fatto uno sforzo non pensate cinque volte prima che cambi idea prima che arrivi una squadra a fargli firmare un precontratto muovetevi adesso ora però dall'altra parte ci penso e vi dico signori al momento che si fa un rinnovo così importante non vorrei che poi finisse come è stato fatto negli anni precedenti e ci ritroviamo un Alexandro un Bonucci un Quadrado che sono giocatori che una volta sì quei soldi li valevano oggi probabilmente la Juventus farebbe volentieri a meno fatemi sapere un po' le vostre impressioni qui sotto nei commenti perché sono veramente combattuto su questa cosa qui rinnovereste Rabiot sì o no e soprattutto qual è il vero Rabiot? grazie a tutti